Attenzione se l'intenzione è quella di recarsi a Modica Sorda proveniendo da Ragusa o da Modica Alta pensateci due o magari tre volte prima di avventurarvi in strada e meglio se anticipate l'uscita di qualche ora. I vostri nervi saranno messi a dura prova per non parlare della vostra incolumità visto che sul ponte guerrieri accade anche questo. Automobilisti che in preda all'ansia e in forte ritardo decidono di fare inversione di marcia proprio sul ponte. Sarebbe bastato pochissimo per l'ennesima tragedia stradale con l'impossibilità dell'ambulanza di intervenire in tempo. Ormai sembra più che certo che a Modica i lavori di miglioramento della viabilità stradale non si riescono a programmare e soprattutto a gestire. Quanto non accade in altri comuni accade proprio nella città della Contea. File di autovetture incolonnate che definire chilometriche sarebbe un eufemismo. Da Modica alta alla sorda è un'avventura che può durare anche diverse ore nelle quali intrappolati in auto si può assistere a veramente di tutto. Persone che come accennato decidono di punti in bianco di fare inversione a U, autobus che suonano all'impazzata, camion che bloccano entrambi i sensi di marcia, motorini che sfrecciano accanto ad automobilisti dentro l'abitacolo che imprecano e sbattono i pugni sul volante. Ieri pomeriggio il clou del dramma viario e anche questa mattina la situazione non è stata migliore. Si cerca un responsabile, anche se i responsabili di quanto accade sarebbero più di uno. Dalla ditta che effettua i lavori dal primo mattino fino a quando la luce del sole lo permette, non un solo vigile urbano in chilometri e chilometri di coda, un'amministrazione assolutamente assente e incapace di gestire quella che dovrebbe attualmente essere una priorità. Tutto risolto da Palazzo San Domenico con un semplice comunicato di inizio lavori e nulla di più. Intanto mettersi in strada proprio per percorrere proprio chilometri è impossibile. Chi deve fare acquisti alla sorda farebbe meglio a dirottare su Ragusa, chi invece per impegni lavorativi o visite mediche deve necessariamente raggiungere il polo commerciale o l'ospedale non ha altra scelta che partire almeno due ore d'anticipo o trovare soluzioni alternative. Nessun segnale stradale infatti avverte l'automobilista proveniente da Ragusa riguardo i lavori in corso e la lunghissima fila. L'unica segnaletica verticale è stata posizionata a soli 30 metri dal semaforo, quasi a prendere in giro chi ha già atteso ore per arrivare in quel punto. In un'ora e mezza non si è visto questa mattina neanche un vigile urbano la cui presenza magari avrebbe fatto da deterrente a chi, come si diceva, si trova costretto a fare inversione di marcia proprio sul ponte Guerrieri, infrangendo il codice stradale e mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Tutto questo sperando che mai un'automobilanza si troverà costretta a dover transitare proprio dal ponte. Inutile ricordare inoltre che sulla statale 194 transitano auto provenienti e destinate non solo a Modica ma anche da Ragusa, che magari devono raggiungere Ispica, Scicli o Pozzallo, migliaia di automobilisti al giorno che restano bloccati per la realizzazione di una semplice rotatoria che quando ultimata unirà la statale con la zona catina. Lavori che adesso però interessano non soltanto la zona interessata dal cantiere ma anche tutta Modica Sorda, zona a sacro cuore ospedale fino ad arrivare allo spiazzale Bruno, un'intera città praticamente paralizzata per dei lavori che sicuramente si sarebbero potuti e si dovevano gestire meglio. Basta ricordare quando nel 2014 il ponte Guerrieri venne chiuso per lavori di manutenzione. Neanche in quella circostanza si registrarono disagi così evidenti come quelli attuali.